Buongiorno, quest'oggi siamo al secondo giorno della quarta settimana della nostra scuola di preghiere in pillole. Questa settimana ci occupiamo della preghiera e della Chiesa. Abbiamo parlato della comunità e di quelle che sono le note caratteristiche di una comunità e quest'oggi vorrei parlare della preghiera in comune. La preghiera in comune è un elemento veramente essenziale, primario della comunità cristiana. Nel senso che quello che viene evidenziato proprio agli inizi della Chiesa, negli Atti degli Apostoli, anche nel Vangelo, quando Gesù si ritira nel Gezzemani a pregare prima di essere arrestato e di essere ucciso, nelle lettere di San Paolo, in tanti casi si trova la comunità che prega. La comunità che prega è un'immagine straordinaria, bellissima della Chiesa, direi forse quella più frequente, più quotidiana, perché gli Apostoli si recavano come di consuetudine al Tempio, come facevano ogni giorno, per pregare. Gli Apostoli andavano a pregare insieme tutti i giorni al Tempio. La comunità cristiana si ritrovava per pregare insieme e per celebrare la liturgia. Ecco direi che questa dimensione della preghiera liturgica insieme un po' è entrata. Un po' fino a un certo punto perché veramente in questi ultimi decenni assistiamo un po' dal, probabilmente dal concilio in avanti, perché prima le messe erano sicuramente più contenute nello spazio, anche se c'erano più preti. Ma dal concilio in avanti assistiamo un po' a questa specie di supermarket della preghiera, della celebrazione liturgica, nel quale andiamo un po' secondo il nostro comodo. La messa, in che cosa consiste? In un orario che scelgo e scelgo magari il prete che mi piace ascoltare. Esco fuori da un concetto di comunità, di comunità che non vede l'elemento di scelta semplicemente nel prete, ma lo vede nella comunità. C'è la comunità che ha il suo pastore e io scelgo la comunità con il suo pastore. Non scelgo il prete che mi aggrada, prescindendo dalle altre persone con le quali vivo la liturgia. Ecco, se per la liturgia comunque alcuni vincoli ci sono, non è che possiamo farla secondo quello che ci viene bene. A volte abbiamo delle impossibilità, per certi versi, per certe fasce orarie. Certamente invece, per quanto riguarda la preghiera, è molto più facile metterci d'accordo e pregare insieme. Questa preghiera in comune, come deve essere fatta? Ma io suggerisco, come preghiera molto bella, quella della lezione divina che facciamo noi in forma trinitaria. Si inizia con un segno di croce, invocando lo Spirito Santo, prima parte della preghiera dedicata allo Spirito Santo. Si continua con la parte dedicata a Gesù Parola, con la lettura proclamata da una persona della parola di Dio, lettura della parola di Dio proclamata da una persona, gli altri ascoltano, come è tipico di una assemblea, di una comunità, di una chiesa. Dopo che si è ascoltata, ciascuno rilegge per conto proprio il testo per apprezzare tutti i dettagli della parola che ci è stata consegnata. La meditazione la si fa, io suggerisco di farla, in forma di risonanza sul testo, in modo da usare solo le parole di Dio. Io rileggo qualche parola che mi ha colpito, attraverso l'intonazione imparerò a trasmettere agli altri ciò che mi ha colpito di quella parola che ho letto. Poi c'è l'orazione, che consiste in una preghiera spontanea che io faccio a partire dal testo e la... quindi ciascuno fa, chi vuole, una preghiera spontanea e poi la contemplazione, uno stare in silenzio davanti a Dio, con la parte finale, terza parte, dopo lo Spirito e il figlio di Dio, il verbo di Dio fatto carne, il tempo dedicato al Padre, che è quello del Padre nostro recitato insieme. Ci tengo a fare una sottolineatura. La preghiera in comune ha un suo punto importante anche nella preghiera spontanea, che noi abbiamo quasi del tutto perduto nella nostra prassi ordinaria di Chiesa. Eppure noi vediamo con chiarezza come nel Nuovo Testamento questo genere di preghiera fosse presente. Gesù certamente ci ha insegnato anche a usare delle parole quando ci insegna il Padre nostro, ma bisogna vedere se intendeva insegnarci esattamente una formula precisa. In tal caso non è proprio esattamente uguale per come viene riportata dagli evangelisti e quindi non sembra che proprio fosse formata in una forma canonica da subito. Ma ha voluto darci delle indicazioni su come pregare, su cosa chiedere al Padre e sono molto importanti. Certamente quindi usare la preghiera in formule è una cosa intelligente e profonda. Tuttavia non devono essere usate solo quelle, perché perdiamo una parte di quella che è la preghiera cristiana in cui c'è lo Spirito che viene in soccorso a noi che non sappiamo nemmeno cosa possiamo chiedere. È lo Spirito di Dio che anima la preghiera, come anima coloro che devono rendere testimonianza davanti ai tribunali quando sono condotti davanti ad essi e non devono prepararsi il discorso perché lo Spirito Santo suggerirà loro ogni cosa. Così lo Spirito anima le persone nella preghiera addirittura noi vediamo con il dono della profezia in alcuni casi nel Nuovo Testamento. Ora certamente bisogna essere molto prudenti e moderati, cioè ciascuna persona deve avere il senso della moderazione e in ogni caso bisogna avere un punto chiaro che nella comunità esiste il pastore che ha il discernimento dei carismi e il pastore deve esercitare questo discernimento dei carismi disciplinando la preghiera della comunità e in qualche caso anche le singole persone quando non sono moderate o il pastore non rileva in essi veramente un'espressione genuina dello Spirito Santo o magari altri spiriti come quello di farsi vedere, di sentirsi importante dentro una comunità eccetera eccetera. Quelli non vengono da Dio. Per cui se noi vogliamo essere sicuri di non avere di questi problemi vietiamo ogni genere di preghiera spontanea soltanto che con questo vietiamo anche la manifestazione dello Spirito così come storicamente è avvenuta agli inizi della comunità cristiana. Ecco perché è importante, essenziale, che in una preghiera della comunità esista anche la preghiera spontanea e non soltanto quella per formule. Per cui ritornando a noi la preghiera in comune è veramente un'espressione straordinaria dell'essere chiesa. Noi dovremmo quotidianamente avere dell'occasione per pregare insieme ad altri fratelli in comunione con loro. Dobbiamo cercare di recuperare il terreno perduto su questi punti perché il nostro secolo così individualista veramente ci induce in stili di vita spirituale che non sono conformi agli insegnamenti che noi troviamo nel Nuovo Testamento. Bene, carissimi, come compito per oggi facendo la vostra preghiera sul Vangelo del giorno, io vi suggerisco, vi chiedo di riflettere sulle possibilità che avete di pregare. Cominciare almeno una volta, due volte alla settimana al di fuori della propria preghiera personale e della Messa, a pregare con altri. E poi così cercate di capire come il Signore vuole aiutarvi a pregare insieme ad altri. Vi auguro di continuare con serenità questa scuola di preghiera, di portarla a compimento e spero che in questo tempo la vostra preghiera diventi sempre più profonda perché a furia di farla quotidianamente la preghiera immerge le sue radici nel cuore e porta la parola di Dio dentro il nostro cuore. Spero che sentiate questo in modo particolare in questa ultima settimana. Auguri di buon proseguimento. A domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.